buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video sui preferiti del mese dunque oggi vado a fare i preferiti del mese di agosto naturalmente visto che siamo alla fine di agosto allora ho messo tante cose diverse creative non creative molte cose diverse non creative e niente direi che possiamo cominciare allora voglio cominciare da una cosa che lo faccio più comincio da questa più che altro per togliermela dalle scatole perché è un po ingombrante voglio cominciare dal vestito capo di abbigliamento insomma preferito del mese e allora ve lo faccio vedere in qualche modo come immaginavo non si vede una cippa di niente è questo vestito fatto così molto bellino eccolo guardate che bello sì ok non rende per niente quindi vi metto una mia foto in cui lo indosso qui e sì non è il massimo la sta foto però è l'unica che ho in cui lo indosso ma o mio dio ragazzi lo adoro non è di nessuna marca specifica l'ho comprato nel negozio cinese però devo dire che troppo 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 bello mi piace da morire e mi sembra anche che mi sia abbastanza bene spero insomma comunque ne sono veramente contenta è raro che io trovi un vestito che mi piaccia così tanto anche perché ultimamente vestiti ne indosso pochi no aspetta nei video ne indosso tanti perché sono comodi però vabbè avete capito quando esco in generale non ne metto tantissimi di vestiti poi ci sono alcune cose che non posso materialmente farvi vedere quindi vi metterò degli screen o delle foto delle cose del genere voglio passare a videogiochi del mese e videogiochi al plurale perché parlerò di due videogiochi uno è uscito stanotte ragazzi lo metto tra i preferiti non so ancora quanto mi piacerà però per ora anche se l'ho usato tipo solo mezz'ora mi è piaciuto tantissimo si chiama pokemon masters e devo dire che sono molto contenta di questo gioco perché quando l'avevano annunciato non mi ispirava per niente proprio zero invece mi sta piacendo molto perché è proprio una storia come un pochino come i giochi per le console della nintendo e quindi mi sta piacendo un botto anche se appunto sono un po' indietro ho fatto ben poco per ora però sembra davvero promettente mi piace mi piace e no non mi stanno pagando per dirlo magari la pokemon company mi calcolasse ma vabbè poi altro videogioco ecco alcuni di voi lo conoscono io ci ho giocato per molti anni poi avevo smesso e di recente ho ricominciato e mi sto ridrogando di cose di league of legends madonna ragazzi questo gioco è una droga incredibile è per computer visto che ho aperto un canale twitch che adesso non sto usando probabilmente comincerò a farci qualche streaming da settembre cioè settembre comincia fra due giorni non proprio fra due giorni però no fra non molto dovrei cominciare no non sono molto brava però perché no ci voglio provare passiamo alla creazione preferita del mese beh ragazzi quale potrei mettere se non lei c'è lo sapete che io la sto amando da morire non è più molto lucida secondo me l'ho sporcata in qualche modo è bellissima lo sapete che la adoro avete quando avete visto il video e siete resi conto visto che di solito a me fa schifo tutto quello che faccio questa volta invece mi piace da morire con il delfino che saltella fuori dall'acqua e niente la adoro tantissimo c'è qualcosa di spettacolare e quindi adoro mi sono macchiata con un colorante non avete ancora visto per cosa l'ho usato il colorante ma lo vedrete presto e sono sicura che vi piacerà molto ma vi do un indizio mettendo tra i preferiti del mese uno di questi coloranti sì ma questo fa ombra quindi spostiamolo eccolo qui sono sicura che alcuni di voi hanno già capito e se avete capito non dite niente vi prego non ditelo non rovinate la sorpresa a nessuno perché questo è un colorante per stoffa e vabbè vedrete presto penso la settimana prossima qui cosa sto facendo anche perché lo sto facendo da tipo una settimana e mezzo spero di fare in tempo finirlo e nel senso che spero di fare in tempo perché vedrete domani domani vi metterò una specie di annuncio nel canale poi anche questa è una cosa che non posso farvi vedere perché è una canzone canzone preferita del mese devo dire che sono uscite tante 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 canzoni molto belle di recente però la mia preferita può essere una ed è quella che ho ascoltato senz'altro di più l'ho ascoltata di continuo e tuttora l'ascolto di continuo ed è Icy delle Izzy se non la conoscete andatela a vedere perché le amo vabbè è un gruppo kpop loro sono troppo carini troppo brave quella canzone mi fa impazzire mi piace troppo assolutamente ora passiamo a slime preferito del mese in realtà io ne ho fatti varie non me li ho fatti vedere qual è lo slime preferito del mese ragazzi uno dei pochi che vi ho fatto vedere c'è questo qui che è quello con le 13 colle vi giuro è venuto troppo bello mamma mia quanto mi piace fatto sta che è bellissimo l'ho messo dal computer e ogni volta che sto magari guardando un video facendo qualcosa in cui non mi serve usare le mani mi metto a giocarci a giocarci a giocarci l'imbecilità infatti l'ho un po' consumato però lo adoro ragazzi è veramente qualcosa di fantastico vediamo se riesco a farvi qualche suono ASMR vabbè avete capito il concetto lo adoro tra l'altro ragazzi cosa che non c'entra niente ma ve la racconto l'altro giorno mi sono per sbaglio praticamente messa a riguardare il mio primo video ASMR che avevo fatto sul canale ASMR che si non sto più usando lo so ma madonna ragazzi quanto è cringe vi giuro che ho pensato di farci una reaction reagisco al mio primo video ASMR vi potrebbe interessare? ok basta il punto è che è fantastico ragazzi se avete tante colle provate a fare sta cosa non sarà magari facilissimo ad addensare ma il risultato se è simile a questo sarà fantastico adoro dunque ragazzi i preferiti sono finiti qui ma visto che il video è veramente breve vorrei farvi vedere una cosa che secondo me vi interessa soprattutto se avete aperto questo video vedendo lo slime in copertina vi ricordate questo? questo è lo slime di Tiger che ho modificato voglio vedere com'è dopo mesi ormai oh mamma mi sa che c'è la crosta sopra e sotto è sciolto tipo iiii sì cioè qui neanche troppo ma qui sotto oh mio dio perché è diventata colla? cosa ci avevo aggiunto? no perché di sicuro questo slime di base la colla non ce l'aveva ma vabbè sì non è mai stato un gran che e vabbè adesso si è sciolto questo è normale capita tutti gli slime però dai staccati dannazione lo slime sotto all'unghia e tra l'altro esce veramente una puzza strana da qui quindi chiudiamo non dovevo farlo no basta va bene ragazzi a parte questa piccola parentesi il video finisce qui io spero veramente che vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un video che vi ho detto è una specie di non è proprio un annuncio ma è una cosa che ci tengo a farvi sapere e spero che possa vagamente interessarvi più o meno ciao ciao